All'ultimo secondo Abdurrahman si inventa un canestro pazzesco che sigilla il 90-89 finale con cui la Carpegna Prosciutto-Pesaro batte Venezia nel debutto stagionale alla Vitri Frigo Arena. Seconda vittoria su due in stagione per la VL, con largo scarto quella di Trieste, con minimo divario quella con Venezia. Un successo all'ultimo secondo che diventa benzina sull'entusiasmo già roventato dei tifosi pesaresi che vedono la VL avanti sempre per tre quarti di match salvo essere ripresi dalla rimonta dell'Umana nelle finale di gara. Una rimonta ricacciata indietro dal canestro finale di Mars che dà corpo ad una vittoria meritata con Cravici, Momoretti e Tambone best scorer a 15 punti. Repegia nel post partita ha ringraziato innanzitutto i tifosi, sesto uomo decisivo per la vittoria e poi chi in campo ha gettato il cuore oltre l'ostacolo. Una partita straordinaria con un avversario molto forte, una vittoria fatta con una grande sofferenza ma con pieno merito. Sarebbe peccato se avessimo perso veramente perché siamo stati 38-39 minuti avanti e come avete visto tutti siamo rimasti senza benzina perché siamo molto più corti rispetto a loro e alla fine abbiamo pacato questa cosa prima di tutto, poca lucidità contro zona e sofferenza sotto il nostro canestro dove hanno preso tantissimi ribalzi in attacco e tantissime palle vaganti che potremmo prendere noi uguali. Gioisce la VL fa altrettanto la vispesero che al Benelli ha ragione di una partita ingarbugliata grazie al gol di Fedato che al 63esimo segna di testa il gol della vittoria 1-0 e spedisce i pesaresi col vento in poppa al prossimo derby in trasferta con Rimini. Derby che sarà però accompagnato anche da qualche problema perché la vittoria col Sandonato costa ben tre infortunati alla vis. Rossoni, Marcandella e Gavazzi non tutelati da un arbitraggio del tutto inadeguato. In Serie D vince anche il Fano al Mancini battendo 2-0 il Roma City grazie alle reti di Pensalfini al 59esimo e Broso all'89esimo. Festeggia anche la Fiorini-Pesero-Regbi che dopo l'esordio urticante in Casa Lazio bagna il debutto al Toti Padrignani mettendo a segno 5 mete per il 36-14 con cui i ragazzi di Allori hanno la meglio sui capitolini delle primavera rugby.